bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sono alexgamer04 e oggi come potete vedere dal titolo sarà il mio primo e vero fotovlog ho ancora il foglio rosa in questo periodo ma in questi giorni devo andare a scuola guida perchè devo mettermi d'accordo con l'istruttrice di fare l'esame quanta gente di mettermi d'accordo per fare l'esame e mi scuso se non ho più fatto video in questi giorni mi scuso veramente tanto scusate per l'audio scusate per la qualità ma devo ancora arrivare devo ancora arrivarmi la gopro nuova perchè questa qua non è gopro ma è action cam non ho il microfono perchè non posso collegarlo perchè queste telecamere diciamo che sono un po' andate beh se vado a collegare il microfono e tutto non è che si veda così tanto beh non servo ecco questa qua è la moto aprilia race 50 del 94 70 all'ora forse il prossimo natale se riesco e convincere mio padre metto top viola in ghisa per farla sfiggere per far sfiggere un pelo di più e adesso vi mostro un po' il paese in cui abito qui è dove mi allenavo quando giocavo al vigliano adesso stiamo andando verso la scuola perchè sono rimasto bocciato sono rimasto bocciato e allora ho dovuto ripetere la terza media adesso vi porto eccola qua questa è la mia scuola dovete l'ora di uscire veramente ragazzi guarda questa qua questa qua la m cosa è quella? la m1? la m3? che qua chi è ora? mi sta? mi taglio il pezzo del semifero perchè questo qua è il semifero lunghissimo adesso vi porto a fare il giro dall'altra parte dove abitavo prima perchè ho cambiato casa come avete visto lo stradone di casa cioè lo stradone che abbiamo fatto prima quando ho acceso la telecamera e la mia scuola è la mia scuola adesso aspettiamo questo semaforo che ci mette 30 anni non vede volere di portarvi dei video su questo canale perchè veramente sono stato veramente impegnato tra compiti studio calcio cioè calcio veramente raga ci hanno lasciato pochissimo ci hanno lasciato veramente poco cioè bello forse questa qua è l'unica settimana in cui abbiamo veramente tanto abbiamo veramente tanto riposo perchè queste vacanze qua facciamo c'è le vacanze di scuola normali solo che poi gli allenamenti li vediamo al 3,4,5 che non sono tanto pesanti devo allenarmi ancora a partire ragazzi poi poi vabbè ti trovi stil bobbiti davanti non c'è neanche lì dove devo andare non c'è 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 sempre, allora sponsoriggiamolo anche noi, quel povero ragazzo, anzi ragazzi facciamo così, io non so se riesco a portarvi il video alla settimana, perché come vi ho detto tra la moto, la scuola, il calcio, non so come fare, quindi ditemi voi che video vi devo portare su questo canale, però c'è tra le robe come Ivan, Giussani, meccanico, non meccanico, e boh, scrivetemelo nei commenti che video vi devo portare in questo canale, se i motovlog mi piacciono, come ragazzi sapete, Bigliano è un pesino così, cioè, questo qua è Bigliano, comunque, sapete che prima vi avevo detto che vi portavo alla mia vecchia casa, ecco, era quella lì dove c'era il porticato, ah, è vero, ditemi anche se vi devo portare pezzi di partite, perché tipo, stiamo facendo delle partite dove i genitori registrano le nostre partite, nei commenti scrivetelo se volete dei video così, che ve li porto, magari non vi metto tutta la partita, ma dei pezzi, non deve fare questo, voi ragazzi, non so più cosa dire, il video finisce qui, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, vi ricordo di scrivere nei commenti che video volete avere in questo canale, ve lo ricordo, bombe ragazzi, il video finisce qui, al prossimo video, grazie per la visione, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, e adios!